salve ragazzi fine mese e quindi eccoci a tirare le somme a fare una contuntivo di quanto abbiamo realizzato in questo mese con il nostro canale telegram dedicato a ping pong e quindi l'attività che ne consegue canale ripeto ancora una volta totalmente gratuito e riservato a chi ci segue da sempre chi fa parte del nostro canale vip in cui giornalmente inviamo le nostre segnalazioni di value riferite ovviamente a legare testa a testa attività diverse dal dall'altro canale che invece serve per segnalare eventuali suggerimenti per le giocate over e under e questo canale anche questo mese un ottimo utile di 16 e 55 unità un edge del 14 27 per cento in linea con con l'altro mese adesso andiamo a vedere in dettaglio giusto per avere un confronto comunque un'attività che ci ha permesso appunto in 116 gare portare a casa le nostre 16 unità e c'è chi come il buon come qualche personaggio osannato festeggiava il mese scorso festeggiava una unità di guadagno eccoci ancora una volta ad avere risultati che sono eclatanti e che ovviamente non sono isolati non sono dovuti alla casualità ma al lavoro che portiamo avanti da da più di due anni e che appunto ci sta dando i nostri frutti nel mese scorso abbiamo vedete utilizzando anche in questo caso i paletti i nostri soliti paletti avevamo raggiunto 17 unità in 140 gare anche qui avevamo un 15 per cento di edge portato a casa numeri eclatanti perché ovviamente estremizzando le situazioni si potevano ottenere ben 30 unità sopra 30 unità senza senza appunto sfoltire di molto il numero delle gare ma diventa particolarmente interessante appunto la conferma di queste di queste prestazioni di questi risultati in questo mese come vedete anche limitando lo sfoltimento delle gare alla semplice eliminazione delle quotazioni 1,99 e 1,98 i nostri paletti chiamiamoli così e anche in questo caso appunto si raggiungono le 15 unità migliorano addirittura se oltre all'eliminazione delle gare stimate 1,98 e 1,99 dalla nostra selezione e i paletti ormai li conoscete sono gli stessi che portiamo avanti da diverso tempo e dicevo oltre alla quotazione 1,98 e 1,99 alla stima 1,98 e 1,99 la presenza di uno spread tra questa stima e la quotazione è uguale a 0,20 direi che c'è ben poco altro da aggiungere se non che ancora una volta anche per questo mese si perderà il prossimo perché anche in questa situazione siamo ben sicuri di portare a casa la nostra pagnotta anche per il prossimo mese che andremo a iniziare proprio da oggi buon mese di ottobre e continuate a seguirci nel nostro canale e nel nostro canale telegram ripeto totalmente gratuito un saluto dal vostro amico Max Zan, bye bye